Buonasera e grazie ad essere qui, grazie ai miei ospiti, parlerò esattamente per un'ora e vorrei presentarvi un lavoro che ho fatto venendo meno ai miei principi, i principi della competenza che vedo sistematicamente violati, in questo caso l'ho fatto anch'io mettendo le mani avanti in mille modi a cominciare dal sottotitolo. Il lavoro in realtà è proseguito negli anni perché tutto nacque da una richiesta di una casa editrice per scolastica, grazie mille, e poi è ripresa, sempre grazie, sempre per una richiesta analoga, dunque mi sono ritrovato ad ampliare quello che avevo fatto all'inizio. Dicevo le competenze, io insegno da molti anni letteratura francese e l'invito è invece a scrivere di letteratura italiana. Dunque mi sono rifatto al maestro dei maestri che per me è Stern e ho sottotitolato questo Millennium Poetry con un esplicito riferimento a una vodka viaggio sentimentale nella poesia italiana, quindi non vuole essere un lavoro critico, è il lavoro di un lettore e non di uno studioso, perché io non ho scritto di letteratura italiana e non l'ho studiata in questi trent'anni. Ritengo però che in questa maniera sia legittimo avanzare una specie di canone. Il criterio, è un'immagine a cui torno spessissimo, quella di Scilla e Cariddi. Io vedo da un lato Contini, dall'altro Marzullo. Ecco, come si fa a passare in mezzo, cioè tra la Scilla dello specialismo e la Cariddi della divulgazione inutile? Ecco, c'era una bella equazione di un linguista che tanti anni fa disse il rischio è di dire tutto a nessuno, se voi andate a leggere appunto queste riviste accademiche in cui io vivo e quindi per carità adoro, ma troverete testi che probabilmente nessuno sfoglierà mai. Viceversa, se accendete la televisione, la quale ha colpe immense per la mancanza del servizio pubblico appunto a livello culturale, troverete nei pochi casi, a parte belle eccezioni, troverete appunto le marzullate, anche questo lo dico con tutta la simpatia del mondo, insomma, ma è veramente grave mettersi nei panni di uno studente. Ecco, io ho veramente il privilegio di insegnare e la mia ottica è proprio quella, la mia prospettiva, l'altezza della mia camera è quella di uno studente. Ecco, quando uno studente compra l'inserto del Corriere della Sera e vede lo scrittore più grande del mondo, un nome a casaccio, beh, stiamo compiendo un misfatto. Allora, come fare per passare in columi e soprattutto per far passare qualcuno tra questi due estremi? Io ho scelto, nel caso della letteratura italiana, e arrivo subito a leggere perché vorrei soprattutto leggere il più possibile testi, appunto l'idea di un'antologia. I nomi sono 39, è uno scherzo, perché dovendo scegliere un numero arbitrariamente in un'impresa, ripeto, insensata e sciagurata dall'inizio, mi è venuto in mente che proprio la cifra, l'impronta digitale, diciamo, di una cultura, di un paese, accade nel momento in cui, con il cellulare adesso funziona meno, io ho studiato per esempio all'estero, accade nel momento in cui si deve chiamare casa, ecco, la questione del prefisso, io stavo in queste cabine telefoniche con gli spiccioli contati, e allora ho ripensato a Etti, quando nel momento più toccante, no, l'esilio foscoliano si ritrova nelle due parole dell'alieno telefono-casa. E dunque la mia introduzione si intitola più 39, tanto per scegliere un numero, ho scelto il nostro prefisso, anche perché avevo visto che erano una quarantina i poeti che volevo inserire, inutile dirvi che ne mancano moltissimi, visto che sono sotto queste luci al confine del siero della verità, finirò che mi abbronzo, vi dico anche molto chiaramente che ho fatto leggere questo canone a diversi miei amici italianisti, quindi veramente, grazie mille, grazie proprio di cuore, veramente competenti, e loro mi hanno detto che è abbastanza plausibile. Naturalmente manca Manzoni, che io ritengo il più grande narratore, addirittura forse europeo, guardate, io lo considero, senza paragonare i russi, che sono come l'Himalaya, stiamo sugli 8.000 metri, io lo considero a livello di Stendhal e Flaubert, lo considero enormemente sottovalutato, enormemente sopravvalutati anche francesi, ma questo lo facciamo in un altro incontro. Ecco, tanto io venero, è la parola giusta, il Manzoni prosatore, quanto ho orrore, orrore per il Manzoni poeta, che per me era semplicemente un daltonico, cioè non sono brutte poesie, a mio parere, lo dico qui a Milano, scusate dello scandalo, proprio lui non sapeva cos'era la poesia, non aveva al minimo orecchio, ma anche di questo un'altra serata. Ovviamente siamo nel campo dell'idiosincrasia, ma questo, questo unico punto, lo difendo appieno. Allora, questi 39, beh, la particolarità di questa antologia, che per il resto, ripeto, è molto, molto ligia alla norma, è l'intervento del multilinguismo, che devo, il cui sviluppo devo, allo studio splendido di Furio Brugnolo, un'italianista che ha pubblicato uno studio proprio sugli stranieri che parlano l'italiano, sui grandi scrittori che scrivono liriche, lettere, composizioni, prose in italiano. Ecco, Brugnolo da una parte, il mio lavoro di francesista dall'altro, hanno fatto sì che sia stato questo proprio il pedale usato per tutta questa raccolta. Parentesi, c'è un libro molto acuto di uno studioso e diplomatico italiano, ora mi sfugge il nome, che scrisse la grammatica del finlandese. Diego, vi dice qualcosa? Va bene, non abbiamo internet, se non l'avrei trovato. Il quale ha pubblicato un memoir, un saggio ricordo, come ho imparato le lingue. Ecco, qui lo dico, anche qui metto il cappello sulla sedia. Io ho cominciato un libro intitolato Come non ho imparato le lingue. Perché è tutta la vita che studio le lingue, essendo particolarmente poco portato, e alla fine mi sono ridotto a insegnarla. Ecco, questo è un elemento aggiuntivo per spiegare quello che ho fatto. E dunque, la seconda poesia è di un poeta arabo. Perché c'è un poeta arabo? Beh, intanto ovviamente perché mi interessava ancorare la nostra tradizione nel Mediterraneo. Ma non era un velleitarismo. Perché il grande Ibn Hamdis vive in Sicilia, dove i suoi avi avevano trascorso secoli. E quando viene cacciato dai normanni scrive una poesia straziante, L'anima volle tutto in giovinezza, tradotta a quattro mani da un orientalista, Francesca Corrao, e un grande poeta e pittore italiano, Toti Scialoia. E questa poesia è un canto da Dio alla terra amata. E questa terra è la Sicilia. Una poesia in arabo, ovviamente, che Scialoia ha tradotto in maniera mirabile in endecasillabi. E' un ricordo della giovinezza. Tocca il tamburo la mano che batte, la ballerina mette avanti il piede. Una pallida siepe di candele porta fiori di fiamma sulla cima. Quasi una lieve fila di colonne equilibrate in duplice armonia. In alto la penombra si dirada, agitata dai veli della luce, danzano, bevono, è una grande festa. E poi c'è questa piccola avversativa. In alto la penombra si dirada, agitata dai veli della luce, ma questa luce è un modo del distruggersi. Manda luce chi perde la sua vita. Sicilia mia, disperato dolore, si rinnova per te nella memoria. Giovinezza, rivedo le felici, follie perdute e gli splendidi amici. O paradiso da cui fui cacciato, che vale ricordare il tuo fulgore. Beh, potrebbe essere un fatto qualsiasi, anche i Longobardi saranno stati cacciati, anche i bizantini. Perché scegliere proprio lui? Perché Francesca Corrauri, facendosi a Maria Corti, di cui visitai peraltro a Pavia lo splendido, allora era armadietto con tutti i manoscritti, sostiene che la caratteristica della scuola siciliana, l'abbiamo studiata alle medie, al liceo, quando c'era ancora la scuola pubblica, non so se vi ricordate, prima che venisse distrutta, la Magna Curia Federico II produce, in questa splendida mescolanza di amministrazione arabo, musulmana, tedesca, normanna e così via, di lingua latina, produce il seme della poesia italiana. Guido dalle colonne, ciullo d'alcamo, l'invenzione del sonetto, pensate, questo cristallo, come lo chiama Cursius, è un prodotto della scuola siciliana. Ebbene, secondo Maria Corti, innanzitutto, alcune strategie della scuola siciliana a livello poetico, la nominazione, qui non abbiamo tempo, ma io qui le esamino, la ripetizione, l'ossessione per questo martellamento fonetico, deriverebbero appunto dalla poesia araba. Quindi ho voluto aprire il testo Le Origini, il capitolo, scusate, Le Origini, con un testo che parlasse di questa radice araba della poesia italiana, che poi passa agli emiliani e ai toscani per tradursi nello stil nuovo. Quindi sono molto felice di questo incontro con Toti Shaloya, che fa da tramite, anche se ho detto una bugia, perché la prima poesia dell'antologia non è quella, bensì, non poteva essere altro, l'indovinello veronese. E qui lo conosciamo tutti, separaba, separeba, boves, alba, pratalia, raba, e così via, la metafora, benché alcuni non siano d'accordo, delle due dita che scrivono come buoi che portano l'aratro e seminano l'inchiostro. Le schede sono brevi, sono due o tre cartelle, anche quelle che ho aggiunto più recentemente. Però, guardate qua che meraviglia. Il punto è che dobbiamo pensare a un'intera letteratura, la nostra, scaturita da un indovinello che ha per oggetto l'atto dello scrivere. Che incredibile quantità di testi è cresciuta poi in quel terreno arato dalle dita dello scriba, da questo agricoltore magico. E lo dice questo un grande medievista, Paul Zuntor, il quale a sua volta si stupisce che è la più antica, con composizione rimastaci in lingua romanza, anche qui ci sono obiezioni che non ci interessano, sia un enigma il cui oggetto è la scrittura di chi scrive. E perché questo accade? Ecco, concludo questa scheda perché c'è una citazione splendida. A partire dal V secolo la sopravvivenza dello spirito si identificò con il libro. Io tra l'altro insegno a Monte Cassino e mi fa certo abbastanza impressione pensare appunto a questa popolazione di trascrittori che vivevano lì. L'unico strumento di sopravvivenza era il libro capace di assicurare la permanenza di una fede e di un pensiero. Ecco la citazione di Paul Suntor si trattava di salvarsi da un naufragio. Alarico aveva bruciato Roma. Teodorico aveva imprigionato Boezio. Mi ricordo sempre da bambino l'immagine, no? Viene torturato, gli stringono, l'avrete letto? Gli stringono una cintura in fronte e gli fanno schizzare fuori gli occhi. Proprio Tarantino. Teodorico aveva imprigionato e torturato Boezio. Giustiniano aveva chiuso le scuole di Atene. Omar distrutto la biblioteca d'Alessandria. Ognuno aveva portato del suo. Nello stesso tempo in cui diveniva più raro, il libro si caricava di significati più vitali. Se vado avanti così finiamo a Pasqua, più o meno. Quindi accelero improvvisamente, anche perché si cambia subito orizzonte e si arriva, ecco, Jacopone da Todi. Ci sono alcuni poeti su cui ho lavorato veramente settimane prima di decidermi. Su altri invece sapevo che stavano lì per un'unica poesia. Spero di arrivare a parlare di D'Annunzio. Jacopone da Todi per me che sono una delle persone più cagionevoli che abbia mai conosciuto pur non avendo avuto diciamo io non ho mai avuto malattie gravi le altre tutte. Vi dico solo che il 19 gennaio sto soffrendo con questo microfono in mano mi opererò di dito a scatto. Qualcuno di voi lo conosce? Qualche amico dice sì ti eri già operato sì alla mano sinistra ora è alla mano destra e quindi come potevo restare impassibile davanti a questa poesia oh signor per cortesia attenzione questa bellissima espressione per cortesia che vuol dire ti prego ti scongiuro se mi ami fammi questo dono manname la malsania cioè fammi ammalare qui abbiamo proprio il misticismo medievale che avvampa io pensavo per esempio San Francesco parla di di sorella cos'è sorella acqua qui abbiamo sorella malattia neanche sorella morte sorella malattia che è molto peggio e qui inizia sono una cinquantina di settantacinque versi non ve li posso leggere tutti un elenco di malattie sembra Antonin Artaud a me la febbre quartana e la continua e la terzana la doppia quotidiana con la grande etropesia c'è neanche bisogno di conoscere i mali più o meno si capisce a me venga il mal dei denti mal dei capo e mal dei ventre allo stomaco dolor corpognenti e in canna la squinanzia mal degli occhi e doglia de fianco e la postema dal canto manco ti seco ma ionga in alco e donne tempo la fernosia deve essere terribile sta fernosia e poi la podagra il carcionvigli l'asmo il pasmo e il rasmo e la grancia addirittura questo ora poi c'è tutto l'emorroide figuriamoci il mal caduco l'epilessia e poi c'è un pezzo molto impressionante ve lo leggo e lui chiede addirittura per favore fa sì che gli amici mi abbandonino fa sì che mi accudiscano i demoni vorrei tanto essere gettato nel fossato di riguerci presso Todi poi ho avuto carini queste precisazioni toponomastiche e mi piacerebbe finire divorato da un lupo il quale tra spine e rovi evacui i miei resti beffardamente paragonati a arliquie reliquie così da restare in ultimo dimenticato da chiunque pena cioè se qualcuno volesse ancora ricordarmi che venga colpito da mostruose apparizioni infernali ecco qui l'uomo si fa davvero calamita del male e vabbè sarebbe anche bellissimo studiare la qualità retoria per esempio l'anafora amme venga amme venga e non posso concludere però senza pensare allo splendido Massimo Troisi che mi pare proprio nel suo primissimo film veniva avvicinato dal parroco e lui si lamentava diceva non so ho avuto dei problemi delle malattie e il parroco gli dice no ma quelli sono doni di Dio li devi amare e allora Troisi è atterrito e diceva no no ma a me non serve nulla io sto benissimo per carità anzi glielo dica e non si deve scomodare Cavalcanti beh ho citato Maria Corti e qui c'è quella poesia sublime nella quale riprendendo poi ho lavorato anche un'antologia latina riprendendo appunto delle forme preesistenti viene data la parola agli oggetti qui al materiale scrittorio è una poesia leggendaria noi sian le triste penne isbigotite le cesoiuzze temperamatite e il coltellin dolente che avemo scritte dolorosamente quelle parole che voi avete udite c'è una pagina bellissima di Calvino che rimane esterrefatto davanti all'idea di affidare agli oggetti della scrittura la voce del poeta mi fermo qui e mi sposto beh su Dante Alighieri figuratevi una delle regole che mi ero dato era di non tagliare testi preesistenti quindi ho fatto i salti mortali relativamente ma insomma per trovare un sonetto di tasso delle rime di Ariosto che non facessero parte dei grandi canti con Alighieri ho avuto però un pensiero diverso sempre ecco qui piano piano emergerà dopo l'arabo la direttrice multilinguistica ossia in qualche saggio ho letto che la commedia presenta un piccolo numero di lingue non è tutta in italiano perché ad esempio abbiamo la lingua satanica arcaica il tremendo pape satan pape satan aleppe è l'estratto è la campionatura di una lingua che dunque affiora nei versi della commedia ce n'è poi un'altra di un pazzo il gigante Nembrot Raffaele Maia Mechè Zabialmi Dante chiede che cos'è Virgilio se lo prende sotto braccio dice vattene quello è scemo non sa che dice e siamo a due l'italiano ovviamente tre le tracce del latino quattro ma in tutta la divina commedia c'è un piccolo lacerto in una lingua straniera moderna è ovviamente celeberrimo è il provenzale parlato da Arnaud Daniel questo mi conduce prima a una serie di versi greci di Poliziano quelli che non sto trovando molto belli perché tra l'altro parlano proprio anche questi di lingua è Poliziano che descrive il greco eccolo qua è una lingua straniera imprendibile ti pare se vuoi catturarla Angelo Angelo è il nome proprio allunga il passo e risponde non ve la leggo in greco perché il mio liceo classico fu un disastro Angelo risponde AB l'allungo e non l'afferro anzi scivola meglio quando mi ludo di toccarla come anguilla bellissima questa immagine ripeto in versi greci del Poliziano che parla della lingua per il latino invece mi sono messo a studiare cosa che non avevo mai fatto lo confesso Giovanni Pontano e ho scoperto un piccolo capolavoro l'ho scoperto io perché naturalmente tutti gli amici italianissimi dicevano ma come non lo conoscevo ed è una meraviglia anche qui purtroppo la metrica latina l'ho completamente dimenticata il testo in questo caso l'ho fatto tradurre ad Alfredo Morelli un mio amico collega latinista beh la cosa bella qui di fatti ho trovato degli articoli critici mi piacciono sempre quando i critici dicono la verità cioè escono dalla gabbia così accademica e questo tedesco dice sì è bello questa filastrocca ma sembra di sentire Virgilio bamboleggiare ed è giusto perché questa è una ninna nanna nenia prima ad somnum provocandum ed è una ninna nanna che Pontano scrive per suo figlio Lucius qui chiamato è un problema Lucetto perché non mi viene in mente un abbrevietivo così un diminutivo un vezzeggiativo italiano per Lucio provo a farvi sentire il latino viene fuori una specie sembra intorno al 1960 70 in Francia si tradura a questa scuola che si chiama Ulipo con Georges Perec con Raymond Queneau Italo Calvino in Italia e lavora sulla combinatoria sui vincoli sulle contraintes è un punto di riferimento di grande interesse beh cito un movimento del genere perché qui troviamo una costruzione ipnotica volta proprio all'ipnosi del lettore l'ideale sarebbe addormentarci alla fine di questo testo basata su un accuratissimo sistema di ripetizioni provane sia che ho dato questo testo in forma di amicizia poi abbiamo pubblicato il libro insieme a un linguista Edoardo Lombardi Vallauri e poi a un semiologo Paolo Fabri abbiamo fatto un libretto insieme e per esempio Paolo Fabri si è sbizzarrito a ritrovare tutto un sistema combinatorio accuratissimo per dire cosa? per far addormentare il bambino somne veni tibi luciolus blanditu rocellis somne veni venias blandule somne veni luciolus stibe dulci canit somne optime somne somne veni vieni venias blandule somne vieni lucetto ti chiama nel lettino soave sonno piccolo sonno dolce soave sonnellino alla sua culla ti chiama lucetto su su sonno sonno vieni alla culla sonno su sonno vieni lucetto ti chiama per corretarti avanti sonno avanti sonno vieni vieni amico della notte vieni lucetto impressionante bellissimo questa è stata per me proprio una delle grandi scoperte salto appunto il 500 ma devo fermarmi a buonarroti allora vedrete subito che non ci sono scrittrici se non l'ultima e io qui veramente devo ringraziare una mia amica che in una recensione ha scritto ha capito il senso di quello che io colpevolmente non avevo detto nell'introduzione c'è un'unica poetessa ed è Amelia Rosselli è l'unica ma è anche l'ultima perché secondo me mi è capitato anche di discuterne se oggi dovessi fare un'antologia di poesia italiana avrei certamente un numero di poetesse superiore al numero dei poeti ma questo è un fatto semplicemente storico perché io racconto sempre con orrore quando si parla di corsi sul novecento che le donne hanno votato nel dopoguerra e quindi la condizione è stata talmente inaudita inconcepibile io ho una figlia femmina che mi ha fatto il lavaggio del cervello quindi ora sono come Ambra telecomandato da lei che mi parla nel microfono però io voglio dire ho capito così a fondo credo di averlo capito non essendo donna questo elemento proprio di esclusione di emarginazione che mi è sembrato normale lavorare in questa maniera quindi Amelia Rosselli è l'ultima è la donna che chiude e insieme apre questa antologia ed è anche la scrittrice l'unica certamente nel novecento italiano capace di convogliare in un testo grazie anche all'apsus come tecnica compositiva una serie di lingue diverse tra loro che interferiscono continuamente arriverò a Amelia Rosselli ma mi è venuto in mente questo discorso a proposito di Michelangelo Buonarroti perché a un certo punto avrei dovuto decidere se escluderlo a favore di tante altre grandi poetesse del del 5600 che secondo me non sono comunque grandi abbastanza forse proprio perché non avrebbero potuto esserlo sarebbe stato come chiedere che uno schiavo scrivesse poesia ecco finché una parte del genere umano è stata schiava ovviamente doveva soltanto sopravvivere e nel caso della donna lavorare alla riproduzione del genere umano quindi Michelangelo Buonarroti che sembra ricollegarsi direttamente a a Jacopone è una poesia bellissima in cui lui si descrive distrutto ecco potremmo dire che Buonarroti ha raggiunto quello che Jacopone si auspicava io sto rinchiuso come la midolla dalla sua scorsa qua povere solo come spirito legato in un'ampolla d'intorno all'uscio o mete di giganti attenzione intorno a casa mia è un merdaio le mete sono le cacche di giganti dove aragne millò pre lavoranti e fan di lor filando fusaiolo scusate ho saltato un verso che chi mangiuva o ha preso medicina non vanno altrove a cacar tutti quanti questa è un' intromissione singolare lui parlerà per tutta la poesia del suo essere smembrato dilombato crepato infranto e rotto sono già per le fatiche ma in questa tersina descrive la propria abitazione come circondata di escrementi perché chi mangia uva o ha preso medicina il purgante non va altrove a cacare se non davanti al mio uscio e ho imparato a conoscere l'orina e la cannella ondesce per quei fessi che non si di mi chiam la mattina gatti carogne canterelli eccessi chi n'ha per masserizio men viaggio non vien a visitarmi mai sen sessi e beh insomma la poesia è lunghissima ed è straziante appunto in in questa ossessiva descrizione del povero vecchio e servo in forza altrui che io sono disfatto se io non muoio presto ieri tra l'altro ho visto questo bel film di Heineke Happy End dove c'è l'immagine appunto di un vecchio che in realtà sta piuttosto bene ma insomma che cerca continuamente di volersi disfare avrei voluto dare più spazio a questa poesia ma ecco teniamo presente che è una splendida descrizione della malinconia nel momento in cui il grande libro di Saks Klibansky e Panofsky prende forma con Dürer e così via insomma qui la teoria degli umori diventa poesia e questo mi porta sempre all'interno di una ossessione organica questo mi porta a uno dei poeti che ho più amato tant'è vero che si tratta di un filosofo Tommaso Campanella non ho mai parlato della biografia in questo caso faccio un'eccezione Tommaso Campanella nasce in Calabria segue i grandi filosofi naturalisti e assiste naturalmente al martirio di Giordano Bruno viene inquisito carcerato 27 anni trascorsi nelle galere dell'Italia meridionale che cosa succede si tratta però di un filosofo il quale conosce molto bene la giurisprudenza e sceglie una via per sottrarsi alla morte si finge pazzo e durante le lunghe torture gli slogano le braccia e così via continua a rispondere questo lo racconta Luigi Firpo in un bellissimo libro 10 cavalli bianchi e questi questi carnefici che pure sono teologi insomma se ne intendono quello che accadeva quando c'era il servizio militare e io avevo degli amici che in tutti i modi provavano a farsi riformare quindi se ne intendevano insomma di scappatoie ma alla fine lo lasciano andare perché dopo mesi che lui ripete 10 cavalli bianchi effettivamente credono che si tratti di un uomo impazzito ripeto 27 anni di prigionia e lui trascinato fuori dalla camera della tortura con il boia che lo trattiene gli si rivolge e dice questa è una citazione si pensavano che io era coglione che voleva parlare e quindi torna alla vita normale torna addirittura alla vita mondana viene chiamato dal papa finirà venerato a Parigi dove è sepolto in tutto ciò però scrive delle straordinarie composizioni poetiche canzoni madrigali che lui stesso commenta ecco qui ce ne stanno due non so quale leggere vabbè canzone prima lui parla all'anima di come al buio hai tu distinto l'ossa i nervi soprasteso alla giuntura tante varie testure di vene arterie e muscoli formasti le viscere le fibre e legature come il bodel il bodello come il bodel si piega stringe e ingrossa come di carne rossa vestendo il tutto la testa scarnasti come il caldo obedia come il frenasti pazzesco c'è una specie di speleologo che immerso in queste celle interroga appunto lo spirito commento dell'autore e qui devo citare a parte Paul Valery Wallace Stevens che per primo o se non per primo fra i primi ha praticato e questo sì in una maniera radicale l'idea di commentare le poesie commento se l'alma non sa come si è fabbricato il corpo né come fece tante membra a tanti usi né come si frena il calore eccetera è segno che essa non fece il corpo quindi tutto questo altro non è che una dimostrazione dell'esistenza di Dio Gian Battista Marino sembrava una di quelle letture impossibili da fare invece mi sono calato in una composizione sterminata che si chiama La Galleria in cui lui commenta delle opere esistenti tra l'altro molto interessante e qui sono impazzito perché c'è un testo che si chiama Crocefisso di Calamita e mi ha fatto pensare a quelli che mettiamo tutti sul frigorifero certo non ci mettiamo il crocefisso però ho trovato addirittura dei siti che vendono oggettini di ogni genere e allora Crocefisso di Calamita Marino che scusate lo dico di sfuggita ma è stato dopo Petrarca l'autore italiano più noto al mondo e anche lui finisce in Francia insomma quello è un periodo veramente particolarissimo Marino immagina è una specie di equazione che il crocefisso sia di Calamita per spiegare la simpatia con cui attrae gli uomini con cui produce la nostra devozione terra cielo ed abisso non solo a me quassù trassi morendo ma trassi i chiodi onde trafitto pendo trassi i martelli onde qui moro affisso cioè sta dicendo che Cristo come una pietra magnetica ha tratto a sé i chiodi e le martellate dei legionari romani che lo uccisero peccator ben ti intendo dirai che io sono immagine scolpita dindica pietra il magnete e però e perciò trago i ferri attiro i ferri forsennato quanterri questa è virtù di mia pietà infinita non già di Calamita eh insomma certo il concettismo barocco e così via Ciro di Persa dunque no vorrei dire che tutte le poesie che sto leggendo mi pare giusto ricordarlo le ho lette grazie alla lezione di Antonio Porta a cui devo molto e tra cui e tra e a cui devo proprio questa indicazione mi è capitato di recente sentire degli attori che leggono poesia non rispettano i versi ecco questo su questo Porta era intransigente molto amico di di Toti Scialoi il quale invece diceva no no gli attori fanno sempre le voci non bisogna fare le voci ma soprattutto bisogna rispettare i versi altrimenti la Jean-Permont quella sospensione quella saspes viene via chiusa parentesi dedico invece questa poesia in realtà è lui che me l'ha fatta scoprire a Valentino Zayken che era pazzo di Ciro di Persa un nome che io non avevo mai ascoltato fino a quando non lo sentì pronunciato da lui fino a quando non lessi un libro di un bellissimo critico nel frattempo è diventato un vero poeta come Vitaniello Bonito questa è una poesia splendida ancora mi rendo conto di esagerare sembra un po' so che a Napoli hanno fatto il museo Nietzsche quella performance che squarcia sangue pezzi da bacchio che so io e beh sì mi piace molto quel tipo di matericità soprattutto quando però viene filtrata come in questo sonetto son nelle rene mie questo è un sonetto sui calcoli renali di cui naturalmente ho sofferto a lungo son nelle rene mie dunque formati i duri sassi alla mia vita infesti che fanzi ognor più gravi e più molesti candemi ai giorni termini segnati e qui inizia una poesia formidabile in cui lui dice la natura mi lapida dall'interno perché non mi tirano i sassi da fuori ma sono le mie rene che me le scagliano da dentro ha preso a lapidarmi dalla parte di dentro la natura e così via è una meraviglia servono i sassi a fabbricare ma questi per distruggere la fabbrica sono nati qui salto John Milton perché devo dire è il mio acquisto più pregiato ossia dopo tanti poeti non leggerò purtroppo Carlo Porta e non leggerò Belli per dire che esistono anche appunto testi per me preziosi in milanese e in romano tra tanti poeti italiani che parlano altre lingue ce n'è uno ce n'è più di uno avrei anche voluto mettere che vedo cioè meglio sono in tanti che parlano l'italiano ma due in particolare hanno composto delle grandi poesie italiane che vedo entrambi nel seicento era l'epoca di Borromini di Urbano Ottavo appunto e così via di Marino ce n'è uno John Milton pensate l'autore del Paradiso Perduto che non solo ha scritto dei versi ma ha scritto addirittura un florileggio una scelta di sonetti in italiano quindi mi fa molto piacere immaginare il lettore che sussulti ma come John Milton ed è ed è così è una meraviglia che probabilmente oggi troverà un seguito anzi l'ha già trovato per fortuna ricordo un libro di Mario Fortunato addirittura di 10-15 anni fa sugli scrittori migranti e non solo di seconda terza generazione che arrivano in Italia e apprendono la nostra lingua Artale donna che gioca a dadi anche questa sarebbe una poesia bellissima però invece vi leggo la vita di questo grande poeta barocco un improvviso incidente cambiò la sua esistenza quando a 15 anni offeso in pubblico commise il primo omicidio così il giovane nobile divenne presto l'epoca esattamente quella una specie di sirano siciliano apprezzatissimo tanto nei circoli letterali letterari quanto nelle accademie di schermo insomma e lo dirà una volta per tutte Baudelaire versi e duelli a testimonianza di queste peripezie rimane un epitaffio a se stesso che recita sparsi sangue ed inchiostro molti biografi ne esaltarono le doti liriche e belliche mentre si sa per certo che in territorio tedesco fu conosciuto come der Blüttigerig Ritter il cavaliere sanguinario bellissimo saltiamo Metastasio saltiamo Parini arriviamo oggi manca un quarto d'ora voglio essere puntuale saltiamo Belli Leopardi e Porta Carducci beh Pascoli è difficile però perché vi dico soltanto questo la tovaglia dei morti dunque come mi sono messo a studiare parte da una tradizione molto diffusa in Europa come ha scritto Mircea Eliade le anime dei morti hanno sete di ogni esuberanza biologica perché questo traboccare della vita compensa la povertà della loro sostanza e li proietta in una impetuosa corrente di vitalità e di germi quanto all'Italia Vittorio Monaco ha segnalato che in Abruzzo nel corso di alcune festività la tovaglia con gli avanzi del pasto molliche di pane e un dito di vino viene lasciata per una magrissima cena successiva quella dei defunti lo stesso dice Ovidio i morti si contentano di poco e Rilke nei sonetti a Orfeo andando a letto sgombrate la mensa da latte e briciole attirano i morti beh quest'idea di un pascoli freudiano è nota ma in questa poesia secondo me che non è abbastanza conosciuta certo lo è meno di altre tocca il suo apice le dicevano bambina che tu non lasci mai stesa dalla sera alla mattina ma porta dove l'hai presa la tovaglia bianca appena che è terminata la cena bada che vengono i morti i tristi i palli di morti entrano anzi manomuti ognuno è tanto mai stanco essi fermano seduti la notte intorno a quel bianco stanno lì sino al domani col capo tra le due mani senza che nulla si senta sotto la lampada spenta ecco per capire questa poesia bisogna tenere presente sullo sfondo il film The Others un po' questo è il punto e poi la poesia prosegue non posso leggervela ma la grande idea di Pascoli è una ellisse temporale di vent'anni perché arrivata la strofa tre c'è un salto questo proprio alla Flaubert è già grande la bambina la casa regge e lavora fa il bucato e la cucina fa tutto al modo dall'ora pensa tutto ma non pensa a sparecchiare la mensa prima gli dicevano i genitori bada che vengono i morti e ora lei dice e ora lui l'autore dice della bambina lascia che vengono i morti i buoni i poveri morti e qui prosegue d'annunzio ma anche qua che dire cioè un poeta così che è facile parodiare Luciano Folgore scrisse la pioggia sul pineto lui a un certo punto scrisse la pioggia sulla cartella delle tasse torna dall'ufficio gli capitano una multa eppure pare che sia l'ultima poesia scritta due giorni prima della morte non posso non leggerla è veramente emozionante e questa poesia convince Luciano Anceschi a cambiare opinione me lo ricordo almeno lo disse in una cena qui giacciono i miei cani gli inutili miei cani stupidi ed impudichi novi sempre ed antichi fedeli ed infedeli all'ozio lor signore e a me uom non a me uom da nulla fedeli all'ozio non a me uom da nulla questo è il campanello che annuncia il finale rosicchiano sotterra nel buio senza fine rodon gli ossi i lor ossi qui nasce la poesia il cane che rode gli ossi una volta sepolto deve rodere le proprie ossa come nell'immagine dell'uroboros egizio e neoplatonico il cane che si morde la coda noi diciamo no? questa specie di circolo il tempo che mangia se stesso non cessano di rodere i lor ossi vuotati di medulla e qui l'idea dell'osso senza midollo fa venire in mente il flauto ed io potrei farne la fistola di pan come di sette canne io potrei fare senza cera e lino il flauto di pan e qui scatta ancora un altro elemento nella mente di quest'uomo alle soglie della morte l'etimologia di pan se pan è il tutto pan in greco significa tutto e se la morte è il tutto questa lunga preparazione sfocia in una quartina memorabile ogni uomo nella culla succia e sbava il suo dito ogni uomo seppellito è il cane del suo nulla e questa poi è una storia strana questa poesia appunto mi fu regalata in questa cena c'era Anceschi c'era Rabboni io scrissi un articolo su questo lo lesse Emanuele Trevi a cui lo regalai vent'anni dopo e lui scrisse il suo primo libro bellissimo I cani del nulla Gozzano Maior Palazzeschi sublime Montale Languilla è inutile dire però arriviamo ai nati nel novecento perché ho solo cinque minuti Attilio Bertolucci leggerò solo quest'incipit che per me è veramente supremo Lasciami sanguinare sulla strada sulla polvere sull'antipolvere sull'erba il cuore palpitando sul ritmo feriale maschere verdi sulle case i rami di castagno e qui parte la poesia ma questo inizio chi parla a chi e perché sta sanguinando e perché sanguina sulla strada sulla polvere sull'antipolvere che cos'è l'antipolvere sull'erba beh è una delle poesie veramente più singolari anche perché è un poeta che di solito viene catalogato come il poeta narrativo e così via devo saltare sereni e caproni figuratevi il dolore per arrivare però a Amelia Rosselli perché mentre venivo qui e mentre rileggevo la sua poesia mi è venuta in mente che questa poesia certo ci sono pagine e pagine Mengaldo Casa Dei c'è una poetessa Tonella Nedda che ha scritto delle cose toccanti su Amelia Rosselli ma l'idea dell'apsus certo è centrale di questo slittamento fra le lingue a un certo punto sentirete l'ultima parola è celestiali e viene chiaramente da cieco cieco celestiale aveva uno strano accento le sue letture erano veramente uniche credo che tutti quelli che l'abbiano sentito siano d'accordo nel dire che probabilmente nessun poeta del novecento leggeva come lei malgrado Zanzotto malgrado Giudici malgrado Pagliarani ecco questi grandissimi beh Amelia Rosselli era una specie di Sibilla in trance quando leggeva e perché però questa straordinaria poesia che dice soltanto se stessa lo spiega appunto Alberto Casadei molto bene disturba così tanto perché secondo me tra le mille cose che si possono dire è basata sulla l'infrazione di un sillogismo questo è l'inizio tutto il mondo è vedovo tra l'altro c'è dietro l'ha detto Laura Barile c'è dietro un celebre sonetto di Shakespeare quindi pensate proprio la quantità di echi che attraversano una poesia che potrebbe sembrare quasi emorragica scritta scritta di slancio ecco il sillogismo ma più che falso folle tutto il mondo è vedovo se è vero che tu cammini ancora ora leggerò tutto ad un fiato ma il punto di partenza è proprio questa insensata struttura logica quindi è la negazione del logos in un certo senso ma sentite anche l'accavallarsi proprio di questa di questa pulsione l'urgenza primaria è di carattere formale dinamico e riguarda l'impossibilità di un avvicinamento definitivo all'amato l'impossibilità di un avvicinamento definitivo la foga dice la propria foga tutto il mondo è vedovo se è vero che tu cammini ancora tutto il mondo è vedovo se è vero tutto il mondo è vero se è vero che tu cammini ancora tutto il mondo è vedovo se tu non muori tutto il mondo è mio se è vero che tu non sei vivo ma solo una lanterna per i miei occhi obliqui ceca rimasi dalla tua nascita e l'importanza del nuovo giorno non è che notte per la tua distanza cieca sono che tu cammini ancora cieca sono che tu cammini e il mondo è vedovo e il mondo è cieco se tu cammini ancora aggrappato ai miei occhi celestiali grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille